parte 3 ragazzi siamo pronti senza chiacchiere cominciamo immediatamente abbiamo sempre i nostri soliti 10 minuti eh se va magari 10 minuti 6 minuti ok Pidolf, Scraggy, Pansir, Joltik, Energia Psico ottimissimo, Bascolin Reverse e inizio sorprendente ragazzi Zekrom ultra rara guarda come sbrillucica e guarda qua spettacolo voi lo vedete benissimo wow spettacolare eh mi sa che quindi se siamo sfortunati oh cioè deve andare come deve andare questa sarà la nostra prima e ultima ultra rara ma fa niente Clang Servine ottimo e Pokeball questa io direi di metterla nella sleeve se non vi dispiace la prendo subito e io la metto subito wow bellissimo a posto andiamo con questo Zekrom e disintegrato ok Benefid Darumaka Blitzel mi manca Wobat Lillipop una versione mi manca recupero totale Reverse e un altro Alomomola ottimo proprio quello che ogni giocatore vuole Yowat Pogadex e Simipur ottimo solo la versione Reverse destra, sinistra, destra no, sinistra un altro Zekrom wow ok Oshawat e me sono portato a presto tutte ottimo energia acqua Timbur seconda versione ottimo Pidove Mincino cioè no Centinaio Zorua Reverse e un altro Maractus ottimo cominciamo con le come doppioni Whirlipid che mi manca Munna sono due Libio sempre lo stesso e recupero totale sono due Zepstrike prendiamo questo ottimo comunque inizio rampante proprio ok questo lo salviamo ottimo salvato alla perfezione anzi direi eh tirato solo fuori una carta ok lo mettiamo qui Lillipop Petalil Blitzel oh è giottico ok oh cacchio Ducklet pozione non so se avete visto pure voi ah ah non credo che questa cosa sia materialmente possibile e Reshiram tutte e due sono un ragazzo felice tocchiamo è la versione figa questa spettacolo vediamo aspettate eh sì è la versione differen- beh spettacolo wow ok ho finito cioè non voglio più niente della vita ma non perdiamo tempo che siamo già a un e che cavolo ho tirato fuori qualcosa che non doveva essere oh cavolo va bene fa niente mamma mia Reshiram ho finito ho finito adesso mancano solo le olografiche e abbiamo fatto giusto Wachog Simibur e plus potenza sto lato destro è spettacolare Reshiram ce l'abbiamo Nekediamine ottimo adesso siamo solo in cerca di olografiche quindi non ci aspettiamo più di tanto dalle prossime parti Zorua Pansier Padrat Pampur mi mancava Snivy questo pure pozione reverse e cincino mi mancava a posto ormai siamo su manca non manca praticamente perché il mio obiettivo è finire la serie all'omomola Clang e Servan e adesso di qua che era? Zeb Straiga a posto l'avevamo questo lo mettiamo qua ok Padrat Pampur Pampur Snivy Blitzel l'altra forma ci serve Tevig Serperior Reverse cavolo lo volevo lo grafico e l'iPad integrante recupero totale Simi Sage e un'altra professoressa Ralia troppi miscugli qua un attimino destra sinistra sinistra un altro Reshiram ma quanto siamo? mi sa che gli ultimi due ci manca Reshiram ah ci manca Zegrom cavolo è vero Zegrom mi manca ok Taclet Pidolf Joltik e che pizza perché me li porto tutte a presto Dirling un altro Joltik Pokedex Reverse e Musharna che ci manca ci manca quindi va tutto a posto Revitalizzanti super recupero a l'umomola quindi l'ultimo lo prendiamo no non c'è lo prendiamo da qua eh si stiamo andando fuori tempo massimo no non è vero ok l'ultimo Lillipop Tepig Venipir ricerca di energia Zorua Sandal Reverse e non è possibile e non è possibile ma che diciamo come i Beedrill terza l'umomola raro mannaggia super recupero Yowat e Crocorock mi mancava ottimo io direi ma si sforiamo ancora un po' devo trovare una rara che mi manca ok Powerloin lo mettiamo qua ricerca di energia Zoro Hensir Padrat Servain Reverse e no eh ma non è possibile comunque Scotland super recupero Simisir e Tranquil un pacchetto di doppioni vabbè la dobbiamo finire qua mi dispiace ragazzi ci vediamo a parte 4 Io